Signori gentilissimi, sti giorni ho imparato che i versi miei vernacoli gli è poco desiderato perché si stenta a leggere queste medie lezzerese. Non tutti lo capiscono perché è un mezzo francese. Così dicevano un critico Ma scrivi in italiano che tutti lo comprendono e te gires più bene. Declama il verso italico, allora tu hai bello. Ma un altro sessorava mi Saresti tu per credere parlando a us letteret che tutti riderebbero gli stessi con per passere. Quei frizzi che muovevano le fodre di giubini e quei che spalancavano le bocche di contadini. Quei detti che fiottavano si dai nesi in tabacchè, muovevano le vesti ai medici, le togma e le bocche, sono versi insuperabili. Ascreti in italiano, a branchi abbaglierebbero gli stessi con pericchè. In questa via, trovandomi tra mezzo e domartei, all'uno all'altro, subito mi accerda, contentei con un lavoro reciproco. Damaggia, ben inteso. Facendo un verso italico, mi schiazza che giresi. Che la moderna logica ci dice, Savlem Gidret, servir conviene due popoli, ma niente la papa è sempre. Ma contro l'impossibile mi vaga in questo momento. L'intruso insopportabile lavora più contento. Tirando il suo grammantice, battendo il suo martello, farà una nuova critica e roba da scorcello. Che schiavitù! Che secolo! Si vede abbatto un chiodo, ognuno gli fiche il biasimo. Nessun può fare il suo modo. Rammenterò la favola come ci va il poor monsieur. Questa è molto analoga di quel che me ha voi dì. C'era una volta un villico, salfiò il mezz'incantèd. Avevano con loro un asino. E i givi inserbarchèd. Siccome il vecchio rustico è il giovane più invurlìd, tenevano la bestia libera. E loro i givapìd. Diversi che osservavano un quadro belaxè ha tanta stupidaggine. E ha incominciato a urlè. Eh, che imbecilli uomini! Che razzo di papagalli! Avevano la bestia o stupidi del monte a cavallo! Fra sé il vecchio borbotola «Io vrio ragionco le gente!» E subito si arrampica, persuese dal fecontente. Inforca il suo quadrupede. Smetta cavallo ben ben e il figlio dietro andava tirando i sasma i ken. Ma, fatto già un chilometro, gli sento un'altra schiamata da altri che osservavano le gambe che i ragazzi che quasi si piegavano. E ha incominciato a urlè. Oh, vecchio, ricrescevole! Ma sbontaggiò dalle! Non vedi il tuo unigenito che un po' camminè più? E padre giù in un attimo ma il fiolfo a Montesò. Lì a poco quattro uomini vedendo ma stragazzaci che tutto insupervivosi sora che il sumaraci e il veglio trascinavasi sal su capel slemen mostrando il crin suo candido. E qui ci ha fè un bacchè e contro il figlio scagliano i colpi e accidenti e tutti gli ripetono Montevergòi per niente a un vecchio così debole fermi di Dria Pid. No, no, si di soccorrelo! Brut pezzo di un invurnino! Costui fra le vertigini l'era per smontaggiò ma il padre disse fermati stavano che stiamo tutto e tutti e due tenevansi ben forti per in casca ma l'asino storcevansi che non voleva camminè e questi due trovandosi tra mezzo e tene questione da orbi lo batterono che erano quattro bastoni a questo gran spettacolo e corso una mucca se presto non scendevano succedeva un massamento per quel paziente martire che li poteva portare abbasso in corso gli davano eh non c'era da scherzare ma dopo poi che scesero tutti loro gli si è spariti e il padre il figlio e l'asino gli erano tutti i tre apri l'un l'altro poi guardandosi nessuno sapeva cosa fare montare più non lo savano e neanche camminè il vecchio più bisbetico trovandosi in tanti imbroi legò le zampe all'asino per non trovare più noi poi mise una gran pertica attraverso l'animale e la spalla lo portarono con sport con sport ma un agnello ognuno di voi si immagini che arrivi in selbercente ragazzi donne uomini gli ha fatto le grandi ricette quei disgraziati stentero tra i urli fino a notte bersaglio di quei critici che scredessi più d'oltre il caso mio è identico ma quanta vega il brut leggo le zampe al diavolo a spalla poi portandolo insieme c'è la ragione sospeso alla mia logica che quella è un gran bastone e tutti i suoi malefici sono tutti maldicenti mi dicono pur cuticola ma a me non importa niente abbassa dunque i critici abbassa le soluzioni abbassa le pettegole e viva poche qualun